L'ex poker è una buona iniziativa, siamo ancora molto agli inizi, perché infatti erano solo 14 partecipanti. Diciamo che può essere un inizio, sarà da lavorare tantissimo perché casomai molte cose nell'organizzazione si possono e si devono migliorare per farlo diventare un buon torneo. Però l'idea di budget può anche essere buona. C'è ancora tanto da fare e sta agli organizzatori a farla, casomai farsi un po' più di pubblicità, attirare più giocatori e poi vedremo nel futuro se se la faranno. Allora nella mano finale ho circa sui 45 bui e sono di big blind con A7 suited. C'è un limp di Ruscal, a cui sarebbe un limp di Jack di Jackson Genovesi, completa con small blind e io check con A7 suited. Non volevo squisare o isolare, comunque non mi sembrava il massimo, però di giocarmi il colpo fuori posizione con A7 suited. Flop viene K5-2 con due cuori, io ho due cuori, quindi not flash draw. Small blind check, io decido di doncare il piatto, era già sui 6-7 mila. Sui 6 mila io donco circa 2.700 mi pare. Passa Ruscal, Jackson Genovesi, a quel punto fa sui 6-7 mila. Se non mi ricordo male. K5-2 ha l'impatto dietro, quindi posso casomai fargli un set di 2, set di 5, casomai un flash inferiore al mio, anche se probabilmente avrebbe chiamato e basta. A quel punto quindi mettendo su un range abbastanza stretto di valore e casomai abbastanza largo di bluff, decido di tribettarlo a 16k per poi andare rotto in caso di push. Luis pensa un po' poi push, lui aveva K5 suited mi pare, una roba del genere, quindi aveva preso doppio al flop, veramente complicato da leggerlo. Vabbè, U-Metal, mi apre anche A7 che mi apre altri 5 out tipo, e niente, riverblank e GG insomma. Quest'anno sto giocando a tempo fisso su Sisal, il No Limit 500 e anche con la Selection il No Limit 1000. Sto andando abbastanza bene, non sto facendo infinite mani, ma sto cercando di giocare abbastanza di qualità insomma. Quindi non spingere cento più mila mani al mese, ma restando sulle cinquanta circa. Sto andando abbastanza bene, a parte un po' di bad run nell'ultimo mese, comunque non mi posso lamentare. Live, sono piazzato all'EPT di Sanremo, che era arrivato sul quarantesimo, che avevo vinto 14k, quindi non malissimo, neanche benissimo. Poi adesso continuerò sempre a giocare Cash 6 Max, come al solito. Grazie a tutti.